la maniglia della porta non si apriva più era saltata adesso ho smontato di nuovo il pannello sembra che funzioni adesso sembra che funziona niente sto rimettendo il pannello e mi è venuto in mente quelli che fanno le critiche sono esattamente quelli che non hanno la waz ma cazzo ma comprati una waz e dopo mi racconti almeno possiamo confrontarci ma se non hai se non hai la waz che cosa parli capito se non hai la waz penso che si sia rotto perché continua a cadere ogni volta che lo apro penso che si sia rotto vista esce così rimane però vedi che si toglie si è rotto i love my waz che poi a guardarlo bene queste sono cose che uno non guarda ma c'ha due viti diverse infatti ho letto qualche altro commento su qualche problema che uno ha avuto sulla waz e hanno trovato che avevano la cloche di una macchina cioè sono un po assemblate con vari pezzi niente mi viene in mente che per una piccolezza così anche qua c'è va bene come hanno fatto a passare questa macchina in europa non ha c'è l'obbligo di avere l'airbag questa l'airbag non ce l'ha e va bene it's ok freedom sicurezza del sedile meno di zero perché è proprio legato con la forfora i ganci sono il metallo che tiene il sedile e veramente cipettone se fai un incidente ti si strappa proprio brutalmente è vero la velocità non è eccessiva va agli 80 all'ora sì sì fai un incidente agli 80 all'ora con questa come hanno fatto questa è una corruzione tra ministero non voglio dire altro per non addentrarmi nella politica difatti la maggior parte delle assicurazioni il mezzo della waz non è nella lista non ce l'hanno ci sono tutte c'è la lamborghini no ma la waz non c'è ma la waz manca proprio manca mai a capire comunque guarda che bello è caspita